Bissato il successo dello scorso anno delle Allegre Mascherine, concorso di maschere e varietà organizzato dal gruppo San Rocco di Roccella Ionica in collaborazione con il gruppo Musicanto. Colori e costumi di vario genere ed epoche, giovani ed anche simpaticamente madri e zie per l'occasione hanno voluto sfilare mezzo ad un esercito di giovanissimi. Dal più giovane, Luciano, appena a sette mesi, alla più grande, Vanessa, 33. Simpaticamente e con grande ironia. Sabato scorso, nella centralissima oratorio parocchiale di Roccella Ionica, è andato in scena un concorso di maschere, insomma, per tutte le età. Caramelle e fischietti per chiunque. Scherzi, canti e balli. Ma a quando poi si è trattato di concorrere, la cosa si è fatta anche molto seria per l'attenta analisi di una giuria estremamente tecnica. Ed è così che dopo un paio di ore si è passati alla proclamazione della maschera vincitrice senior, il soldato Francesco, quella baby, 0,9 anni, Mary Poppins, Giulia. Dopo qualche canzone, interpretata dai giovani allievi del gruppo musicanto, testo su maxi schermo e a partecipazione corale anche dal pubblico, arriva la stand di Govation per la maschera più bella e allegra in assoluto. Esu, quattro anni, attira le attenzioni della platea, strimpellando la sua chitarra in tenuta da hippie. In coda ad un pomeriggio frenetico, ancora tanta musica, balli e canti ed una pioggia di dolcetti. Un'altra tappa divertentissima del ricco calendario 2018 di eventi realizzato dal giovane comitato organizzatore. Grazie a tutti! Grazie a tutti!